Ciao a tutti amici e bentornati nel mio canale! Oggi vi propongo tre raccolti laterali per capelli di media lunghezza. La prima proposta è una treccia francese. Prendiamo una sezione di capelli, la dividiamo in tre ciocche e le intrecciamo verso l'alto. Dal secondo intreccio in poi aggiungiamo sezioni solo dalla parte frontale. Blocchiamo la treccia con un elastico e nascondiamo la parte finale nel retro sotto i capelli. La seconda proposta è una treccia olandese. In questo caso intrecciamo le ciocche da sotto così da farla risultare il rilievo. Dal secondo passaggio in poi aggiungiamo sezioni di capelli sia dalla zona frontale che centrale. La terza proposta è una treccia a quattro ciocche. Facciamo passare la prima sotto la seconda, sopra la terza e sotto la quarta. La seconda la facciamo passare sopra la terza e ripetiamo questi passaggi. Anche qui dal secondo intreccio, come per la treccia olandese, aggiungiamo sezioni di capelli sia dalla zona frontale che centrale. E questo è il risultato, se vi è piaciuto lasciatemi un like, un commento per farmi sapere cosa ne pensate e se ancora non lo siete iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per restare sempre aggiornati. E al prossimo video, ciao!